4 milioni di euro per due bandi che la Regione dell'Umbria mette in campo per la internazionalizzazione delle imprese. Sono stati approvati in queste ore dalla Giunta, uno è il bando Travel finanziato per 3 milioni di euro, l'altro è il bando Fly con 1 milione di euro. Il primo passo di una serie di strumenti che noi vogliamo mettere a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese. Internazionalizzazione, insieme a ricerca e sviluppo, insieme a digitalizzazione, sono le tre gambe che devono favorire la crescita dimensionale delle imprese nel territorio. Il bando Travel è destinato al finanziamento di progetti di internazionalizzazione integrati realizzati da micro e piccole e medie imprese. Il finanziamento previsto per la parte a fondo perduta è del 40 o 50% a seconda che si presenti domanda come impresa singola o aggregazione e i livelli di investimento sono da un minimo di 30 mila euro ad un massimo di 100 mila euro per le imprese singole, da un minimo di 70 mila euro ad un massimo di 200 mila euro per le aggregazioni. Il bando è gestito da Sviluppumbria. Attualmente attivi in Sviluppumbria ci sono bandi per l'internazionalizzazione, la partecipazione delle imprese alle fiere internazionali e anche per le consulenze per tecnici esperti di internazionalizzazione come Temporary Export Manager o Digital Export Manager. In questo caso viene ancora di più valorizzata l'opportunità per le imprese di unirsi, di aggregarsi, di partecipare insieme ad attività internazionali. I beneficiari del bando travel potranno richiedere quasi automaticamente attraverso il bando fly anche un prestito agevolato erogato da Gepafin che coprirà fino ad un massimo del 30% del progetto. Uno degli elementi innovativi è che assieme al bando travel noi abbiamo attivato un bando fly che mentre il bando travel sarà gestito da Sviluppumbria, il bando fly sarà in collaborazione con Sviluppumbria gestito dalla nostra finanziaria regionale Gepafin che consentirà con una dotazione di un milione di euro di consentire alle imprese che avranno ottenuto un finanziamento sui progetti di internazionalizzazione di avere un anticipo del 30% sulle spese del loro progetto. Le misure approvate saranno pubblicate entro la metà di dicembre. Grazie a tutti.